Buon video sono scritto e siamo tornati oggi su Clash Royale con il baule super magico da aprire prima di tutto apriamo questo baule argente a omaggio e intanto vediamo le carte che mi andrebbe di trovare sicuramente tra epiche l'orda di scheletri che voglio fare al 5 ne manca una da una settimana successivamente anche le fornaci possibilmente poi comuni sono messo abbastanza bene sì dai le rare ho già detto la fornace e di leggendari anche se non è detto che la troveremo mi piacerebbe allora tra queste qua che ho già lo scalero ce l'ho già al 2 lo stregone di ghiaccio non mi piace molto la principessa dai però non mi interessa cioè ho il tronco che ce l'ho già al 2 quindi non potrei usarlo subito più forte allora il minatore mi piacerebbe un sacco lo stregone elettrico pure drago infernale no non molto cimitero più o meno la scintilla no il mastino vabbè comunque una leggendaria vediamo un po sblocchiamo il baule argento e apriamo il baule super magico speriamo proprio 4000 aiuto un bel po di oro domatori 12 capanna goblin che non mi servono dai fai uscirle tutte ok wow posso farle dal 10 adesso fai tutte le epiche leggendaria leggendaria il tronco dai comunque una leggendaria il live fantastico le copa il boia quanti poi ho trovato benissimo la leggendaria il live il tronco va comunque bene perché una leggendaria posso tra un po farlo anche al al 3 molto forte poi gli barbari scelti sono abbastanza contento perché comunque posso farli al 10 sono più forti il boia va bene forte il boia gigante può essere utile panna goblin no il domatore viene usato da un sacco di persone il golem di ghiaccio non mi serve e il tronco è molto bello leggendaria il live prendiamo un domatore tanto abbiamo adesso comunque abbiamo più oro non so se farlo al 10 barbari scelti quanto hanno fanno più o sì 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 non viene barbari scelti al 10 wow di questo mazzo qua ho proprio molte carte comuni al 10 devastanti poi inizia tutto questa sfida qua o che bello un altro tronco anche se non me ne faccio nemmeno mancano ancora tre prima di potenziarlo purtroppo non ho trovato nessuno dai scheletri magari ci fosse anche nello shop diamone una per avvena almeno una solo e poi abbiamo sofferta qua che no no niente sarebbe bello riuscire a prendere questo video ovviamente era solo il chest opening una leggendaria in live lo so che vabbè è una carta che ho già però una leggendaria comunque con un chest opening no jamming perché l'ho vinto in battaglia e comunque sono felice di aver raggiunto i 73 iscritti prima di tutto volevo dirvi che abbiamo raggiunto i 73 iscritti quindi abbiamo raggiunto 60 iscritti entro una settimana non abbiamo raggiunto i 20 mi piace purtroppo però probabilmente vabbè non è importante magari non piaceva il video non è quello il problema però vi dirò i progetti che avevo per avevo detto che avevo dei progetti per il per gli speciali iscritti tutti iscritti prima di tutto a 100 vi avevo detto che avrei creato un un clan per gli iscritti non so di se mi sono però a 100 iscritti penso di cioè dover chiedere quanti vorrebbero entrare perché se non c'è nessuno che vuole entrare non è conveniente a 500 lo sapete già crea un torneo per gli iscritti da 100 gemme intanto ce le ho magari posso farne anche due vedrò a 1000 iscritti ho pensato di dato che avevo già creato un clan di fare delle battaglie con gli iscritti o contro gli iscritti chi vuole ovviamente e crea un altro torneo o anche due volendo a 1500 iscritti ho pensato di fare un chest opening no jamming da comincio a tenere da adesso dopo questo bolle supermatico fino a 1500 iscritti bauli che vinco in battaglia abbastanza importanti cioè non giganti magari anche giganti sì ma se c'è leggendari magici è buono e poi dopo i 2000 iscritti non ci ho ancora pensato ditemi se per voi sono delle buone idee perché a me sono parte delle idee abbastanza interessanti e questo video purtroppo è un po più breve per questo video è tutto ciao a tutti